Video estemporaneo, anche un po' per testare questo microfono nuovo. Ora, qualche tempo fa ho visto un video di Roberto Mercadini in cui parlava dell'odissea e di come ci sia un tipo di maschilismo che nonostante dia molto spazio alle donne, le faccia decidere, quasi comandare, queste comandano, prendono decisioni facendo sì che la loro condizione venga perpetrata, quindi che restino in una condizione dominata. E in questo video Mercadini menziona un documentario di Pasolini, Comizi d'amore, in cui Pasolini andava in giro per l'Italia cercando di capire cosa gli italiani da ogni ceto sociale pensassero della sessualità, qual era il loro rapporto con la sessualità. Al che ovviamente me lo sono guardato, perché appena ho qualche spunto io lo prendo subito, soprattutto quelli di Mercadini. E a un certo punto Pasolini sta intervistando Ungaretti a riguardo della normalità nella sessualità. Vi lascio sia questo video che quello di Mercadini in descrizione. E poi più nello specifico chiede cosa significhi trasgredire la norma e se Ungaretti sia uno che trasgredisce la norma più in generale. E Ungaretti fa una faccia del tipo Sono un uomo, sono un poeta, ecco sì. E subito appena l'ho vista ho pensato Ma quanto cazzo è memabile Ungaretti? Ma cosa significa che sia memabile? Cosa si intende per meme? Il concetto di meme viene popolarizzato nel 1976 con il libro Il gene egoista di Richard Hawkins, un biologo, che faceva questo parallelismo tra gene come unità di replicazione nell'evoluzione biologica e meme come unità di replicazione nell'evoluzione culturale, in questo caso. E meme prende la sua radice dalla parola greca che significa imitazione. E ora, tralasciando il fatto che l'unità di replicazione nell'evoluzione biologica non sia a tutti gli effetti il gene, ma c'entrano anche gli individui, i gruppi di individui, forse non è ancora chiaro esattamente cosa significa in meme. Quindi lasciamoci aiutare da Giuseppe Ungaretti. E in questo primo passaggio Giuseppe Ungaretti dal dire I am a man, I am a poet, ecco che diventa I am a replicator, I am a meme. E non è più la persona Giuseppe Ungaretti a dire questo, è il meme stesso a dirsi meme. Ora il meme Giuseppe Ungaretti andrà incontro a nuove modifiche da parte di altri esseri umani che gli faranno cambiare forma, gli daranno un nuovo contesto, magari ricombinandolo ad altri meme, come ad esempio in questo caso, dove il meme appena creato di Giuseppe Ungaretti viene combinato a un altro meme, possiamo dire. Questa volta un quadro del pittore Magrette, del Se si ne pa un pip, che viene a sua volta modificato in Se si ne pa un meme, nel mio francese fantastico. E' l'insieme del meme che era in precedenza inserito nella nuova cornice a essere il nuovo meme. Ma ora facciamo un ultimo passaggio che non vi spiegherò, mi direte voi se lo capite nei commenti. E questo ultimo passaggio comporta la conoscenza di una, una delle poesie di Ungaretti, quella più conosciuta probabilmente, che è essa stessa un meme. E quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo meme e se il video non vi è piaciuto vi consiglio di guardare dei professionisti tipo Mercadini, cosa che farò anch'io a breve. Grazie a tutti.